Pene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr Electric e oggi siamo su Mario Kart 8 e conosce anche il nostro amigo Sebastiano che è appunto credo che ha avuto un canale YouTube chissà come e credo che io con questo ragazzino con la maglia bianca Sebastiano, faremo forse il nuovo canale insieme che prenderemo il mio canale insieme. Sì, lo siamo. Allora, facciamo, one giocatore. Allora, al primo tempo GP. Perché è one giocatore? Ah non c'è, c'è più giocatore. Eh sì. Più giocatore, ecco mi ricordavo. Gran premio. 150 cc. E minchia come si gioca. Normale, guarda i carturi. Normale. Ma chi sei di buono? Premi A per accenderà. Io sono Deve Luigi ragazzi. Dai. Chi sei scelto per me? Guardi metallo. Io. Brava. Grazie, fatti più dietro. Questo che cos'è? Chi? Chi? Questo... Il fondo indagocativo. Ma... Il simbo. Il simbo. Il simbo. E si devono bloccare dei personaggi. Grazie, fatti dietro. Fatti più dietro. Vabbè, è normale. Va tutto classico. Allora, noi ci prendiamo. La macchina è più bella, guarda. Io non so nemmeno la macchina è più bella o... Allora, la macchina è più bella o... Vabbè, adesso sta. Ok, parabéns. Io ho mancato a V. Sperato che ha metto la macchina. Ma sicuramente... Questo è veloce. Questo qua è quello del 7 è veloce. Non lo prendo, vedete, è veloce. Metto queste qua che sono faglissime. Sono finissime queste cose. Ok, ragazzi. Allora, nel primo video abbiamo preso Luigi. Nel secondo Mario. Nel terzo Baby Mario. E nel quarto Baby Luigi. Quindi chissà nel prossimo cosa ci sarà. Allora, domanda dove la fungo, Fiore. No, mi devi dire che comandi perché io non ci gioco tanti con i milagri. Allora, con A si accelera. Con B si derapa. Con B si derapa, la seconda. Sì. Con quello si muove, così si utilizza tutto il contrario. Non c'è. Perciò non mi troverò. Con quello si muove. E con basta. E con la precetta... Come si lanciano gli oggetti? Con C? Con B. Con B. Però tutti con C si lanciano. Ok. Il trofeo speciale. Il trofeo speciale che è difficilissimo. Già te lo dico. No, basta che faccio io primo. Poi... Sì. Eeeh. Mi dovete spingere. Mi dovete spingere. Mi ha detto. Mi basta. Io faccio primo sicuro. Non mi dovete spingere. Come si può spingere? La scilla devi fare. Non mi spingere, proprio come camminare. Ah, sì sì, ho capito. Non possiamo? Come non possiamo? Va bene, regala, dai. Cominciamo. Eh, vabbè, gioco di merda. Mi accelterai poco a poco. Via! Prima il turbo! Zingali turbo turbo turbo. Ok. Sebastiano Fanono, ragazzi, che giocata Mi Ah, me lo mostro a calcio, però Cioè, basta Di chi, di chi? Di Lorenzo Di Lorenzo Cazzo, bene Non ti permettere Non ti permetto, giuro che ti Ti spacco qualcosa e te la Faccio diventare Oh, sono bravissimo E infatti se è buono Già la prima volta che il gioco è buono Ecco qua, si fa il tuo Mi spacco qualcosa e la vendita a bordo Che vuoi dire? Ma non, 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 non Cazzo, 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 che ne sto? No, cazzo, perché? Oh, lei, guarda Guarda, so volare Benissimo Ok, siamo terzi, ragazzi Lorenzo è il primo Faccio che io faccio il primo di Lorenzo, non tu Ragazzi dove cerchiamo di dire una cosa? Perché vi siete iscritti al canale di... Di... Come ci chiamo del canale? Stupido Muori, devi morire Ma non è tuo! Vabbè, ragazzi Comunque grazie mille perché state... L'avete aiutato Per un iscritto mio fratello Quindi vi ringrazio tanto perché sta a due iscritti Grazie mille profister, grazie mille Per il maccio, per il maccio E quindi grazie... Sono morto Vabbè, grazie tanti ragazzi E quindi... Ma cammina da solo quando stai in... In volo? Siamo primi! Ragazzi, questo domani io farò il video di... Di zonchi con se... Di zonchi con se... E comunque... Grazie anche a me Grazie a chi mi avete usato Siamo arrivati a 72 iscritti ragazzi 72 Perché uno non si è iscritto Però ho detto che se non si iscriveva lo sci E vi è ammazzato Non fa niente E quindi siamo a 72 Se si arriva a 75 Ci sarà uno speciale Accento Non vi dico che speciale che faremo Non lo devi dire Poi quando avremo a fare la stessa cosa Aio! Lappo! 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 Comunque questo percorso è davvero epico Ma io sono cagato Oh ma... Ma non mi devo prendere Dai! Dai 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 Tu primi! No il buscio tu non mi arrivi Tu no! Tu no! No! No porca! Porca 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 porca! Allora devi sentire Sono decima Cazzo se lo sento a te! No! Vabbè Preguro Sono decima Tan 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 tat Tan tan tat 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 Tan tat 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 Anche ci sono soprattutto È fatto Perché flavio ha fatto il 12esimo Funzissimo si vede vicino a mio fratello così farà anche cose spagnate ohhh deserto di tardosso questo è un bellissimo percorso è difficile molto difficile oh zingaro baby zingaro e vedi guarda questa è mia vieni mamma poi sono proprio belli che cussi ho preso pochi fa un c***o zingaro se qualcuno ha visto la mia seconda parte dicevo stessi basso come si vede una pazienza potete mettere il mio fratello che ti piace e scrivere il mio banale eh cavolo a me ho 15 iscritti ma che mi arriva a 15 iscritti mamma sei morto yahoo ma non ti vede a te ma non ti vede a te cosa che c***o vedi no zingare e te non si vede che c***o neanche le quattro di parte se ti sento vede una carta ti scosso la terri vedi Vabbè, quindi, allora, siamo partiti perché abbiamo perso un po' di identità, diciamo, durante il nostro momento di silenzio, abbiamo perso un po' di identità e quindi, cazzo, cazzo, una banana, ma ci ha sfiorati, veramente, ci ha sfiorati e non so cosa facevamo se la prendevamo, in un posto misterioso, ok, sono primi, ragazzi, quindi per ora potremo giudirci vittoriosi, infatti, il guscio ha soccato un cartotto che si vuole proprio incazzatissimo, quindi se passiamo, dai, in questo video, visto che ci sei l'unico video che fai insieme a noi, dici, via il nostro nuovo canale, se lo avremo, quali vorrebbero essere i nomi adeguati per ciò che fai io, che cosa te? Bello. Eh? Spada. Spada. Ah, ok, bello, no, però va vincente, cazzo! Che hai detto? Spada, spada constrictor. Ho detto, ha detto sboglio. Lorenzo. Lorenzo, porca pure te, eh. Sono secondi, zingari. Pischi, non mi fai una pippa. Nella pippa della fai, la pippa, ti fai la pippa. Cazzo, 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 cazzo! Sì, primi, ragazzi, primi, primi. Sebastiano, Sebastiano sempre decimo. Lorenzo il settimo. Volevo dire, settimo ancora, settimo. Un sottimo! Mario! È il numero sette. Nono. Nono. Sebastiano per nono. Vai che faccio. Sebastiano per decimo! Babà, mamma mia! Mi posso fare chiamarti lo scopo di danno? Non si può. Siete zuffo! Non mi aspetta che è più buono. Tu sei più bravo che puoi guardare da là. Tu. Ma davvero, posso stare da qua. Ma si va a tu! E poi si mette davanti. Guardate, ti fai. Iiii! Guardate, ti fai. 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 hungly, tuned. Castello di Bowser. Oh, bello! È più bello. Vediamo qua. Minchia, se non mi ho perso. Vediamo qua. Ma perché parto sempre terzi? Perché è stannata. Ma che capisque... Oh, son quinto. Attenzi Quarto, son quarto E son qui Guardala, guardala son terzo No, no sei terzo Son quarto No, terzo Io sono sicuro Non si fanno Non fai dolce Non si fanno Ma da volo tutto in impiennata Guarda quanto son bravo Ci penso io, ci penso Finiato il primo giro Non è stato terzi ragazzi Sì Se dormi da venire Ma perché con me sto coso è lentissimo Beh, solo con te Meraviglioso Ma mi posso E' bello che Bowser Quando dai il pugno a terra Provoca mai di puoi Uno che è la grande Sì 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vedete la ricorsa vedete la che corse, vedete la che corse no dopo facciamo un altro campionato no, no no, se può no, non si può fare che? non si può fare, non ci vediamo ma io non dico nel video cazzo ragazzi siamo primi, siamo primi siamo primi wow, distanza non è un po' impressionante ma sei maschiano oh senti, ti ricorda che in questa prima volta se lo posso fare la mia no, perlomeno decimo primi, 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 primi 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 prima cosa ma poi mi dice a lei, l'ha incontrato si passiamo a me va bene va bene oddio no ah, è facile, regà, è facile ma come faccio prendere il tubo come mai le parti di di deravare no, non mi cadere qua che andiamo negli altri mondo qua meno male che sto deravare e sto deravare su, come l'ha fatta oh, verba perché cazzo ma la, di poco cazzo no 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 mazzo ma che bello mazzo mazzo dai mazzo mazzo ma non si fanno queste cose non si fanno il pubblico l'ha fatto l'ho fatto ti sei provato perché? tu che me l'ha fatta sono terzi ragazzi e a me ci mi dà sono secondi faccio faccio bene faccio vado a capire questa cosa è difficilissima guardi me ne penso no 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 non so che non si fanno ahhh per cazzo spero non mi lo farei contato capo al culo no 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 ma non si fanno queste cose dai fare i primi di vero miracolo il prossimo campionato non si fanno così sperimenti che fare il limo guarda facciamo a modo mio mi eri tu sui miei cari della teca mamma mia ragazzi no pero non si fanno ci fanno qui no che sia cazzo sa in t shutting te il anzi non mi spingi non mi voglio far battere con un pedofilo grazie non mi vede è fabuloso dai facciamo un'altra volta che poi si mettono paura via dai no guarda vado in vetro maschi e bastiano via 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 ma che cosa si basta si siamo primi si abbiamo partorito siamo primi oh si fai i risultati si si io sai no no si si abbiamo fatto primi senza stelle abbiamo sblocato un nuovo personaggio sui 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 e quindi come ci vediamo in un altro video anche a me vediamo mettete un mi piace un pollicione un video sui 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 sui